I primi dati preliminari riguardanti la situazione ambientale intorno allo stabilimento Chemipol di Scerne di Pineto colpito ieri da un vasto incendio sono stati definiti al momento confortanti dei sindaci dei comuni interessati. Il rogo che ha distrutto il magazzino della fabbrica di solventi e diluenti ha generato una densa nube di fumo spinta dal vento verso diverse aree. A scopo precauzionale i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole in sei comuni per la giornata di oggi. Questa mattina il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta e quello di Roseto, Mario Nugnes insieme ai tecnici di arte e ASL hanno partecipato a una prima riunione tecnica per esaminare le analisi iniziali dei campioni prelevati. I risultati che mostrano segnali incoraggianti stanno spingendo i sindaci a considerare un allentamento delle restrizioni in vigore come l'uso obbligatorio delle mascherine e la chiusura delle finestre nelle abitazioni. Sono arrivato nell'immediatezza dei fatti, la situazione era ovviamente preoccupante, il primo approccio è stato quello di capire se ci fossero delle persone rimaste coinvolte nell'incendio e per fortuna, ripeto, non ci sono vittime, non ci sono feriti, non ci sono intossicati. La situazione gradualmente grazie all'opera incessante dei vigili del fuoco è ritornata nella normalità, l'incendio è stato vi è più domato, restano alcuni fuochi che ovviamente sono fuochi che rimangono accesi sotto le macerie del tetto del capannone crollato ma sono nella completa sicurezza gestionale da parte dei vigili del fuoco. Quindi la situazione si sta avviando verso la normalità da punto di vista della gestione dell'incendio, resta da capire il danno ambientale eventualmente procurato. E' su questo che attualmente c'è la grossa concentrazione da parte di tutti gli enti coinvolti a cominciare dall'Arta e dall'Asl. Un secondo incontro tecnico è previsto in serata durante il quale verranno valutati i dati finali sui campionamenti ambientali, con particolare attenzione alla qualità dell'aria, alla sicurezza degli alimenti, soprattutto alle verdure a foglia larga e alla potabilità delle acque. Sul fronte operativo i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte mantenendo un dispositivo composto da 30 uomini e 15 mezzi. L'incendio che ha interessato il magazzino sul lato nord dell'azienda è ormai sotto controllo, con solo alcuni piccoli focolai ancora attivi all'interno dell'area. Grazie all'intervento massiccio delle squadre provenienti da Teramo, Pescare e L'Aquila, Le Fiamme non si sono propagate ad altre parti della fabbrica. Al momento 16 vigili del fuoco con 9 automezzi sono ancora impegnati per completare le operazioni di spegnimento. Le operazioni di spegnimento sono quasi terminate, abbiamo messo in campo circa 30 uomini, circa 12 automezzi e stiamo facendo le ultime attività di bonifica per dare lo spegnimento completo. Che situazione avete trovato ieri quando siete arrivati, visto che le fiamme sono così alte? Abbiamo trovato una situazione abbastanza tragica, ma l'abbiamo risolta con il contributo di tutti gli enti che sono intervenuti in questa attività. Poi si dovrà iniziare anche a capire cosa ha scaturito questo incendio. Sì, man mano che andiamo avanti stiamo arrivando vicino al luogo d'incendio e ci saranno degli sviluppi nei prossimi giorni, presumo, su questo argomento. Poi vedremo cosa è rimasto per analizzare. Fra qualche ora arriveranno i mezzi che cominceranno a rimuovere le prime cose che sono in pericolo in questo momento.